2 punti di riferimento siccome ho già parlato abbastanza e io sono uno che parla molto adesso incominciamo un po' a muovere questo cerchio incominciamo ad ascoltare il clima di questo cerchio senza dirlo, provate a sentire io qualche sensazione ce l'ho com'è se normalmente l'atteggiamento della vostra classe se sentite che l'atteggiamento della classe mi fa paura se l'atteggiamento della vostra